Oggi è un giorno importante perché si ha la percezione dalla qualità dei materiali che sono stati sprigionati dalle nostre carceri di cosa si è in mano. Il più grande museo al mondo di archeologia classica greco-romana con oggetti che potrebbero tranquillamente essere presenti in principali musei d'Europa e del mondo. La bellezza entra prepotentemente nelle nostre sale e ci rimarrà a lungo e anzi sarà irrobustita da successive esposizioni che saranno portate nel mese di luglio e a settembre, quando arriveranno addirittura le oreficerie, i tessuti e anche i commestibili.